Un premio importante per voi è la quarta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro che certifica l'impegno anche sociale della vostra associazione? Assolutamente sì, ogni premio ha la sua importanza perché per noi è anche fonte di motivazione perché si sta andando verso la direzione giusta, è il segno tangibile che qualcosa di bello si sta realizzando quindi siamo molto molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio qui in questa manifestazione così importante che coinvolge tante associazioni, tante realtà del nostro territorio e non solo ovviamente l'associazione culturale School Movie si concentra maggiormente sul progetto Cine Edu che è cinema educazione che coinvolge i ragazzi delle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado della nostra Italia ormai siamo giunti alla dodicesima edizione e coinvolgiamo circa 8 regioni oltre la nostra campagna 55 comuni oltre 300 istituti scolastici il progetto consiste nella realizzazione di cortometraggi ma cortometraggi che hanno dei messaggi importanti messaggi sociali, messaggi di valorizzazione del territorio in cui si vive ma anche e soprattutto messaggi importanti perché scritti dai ragazzi quindi sono le loro idee, le loro aspirazioni, la loro visione del mondo e quindi sono i loro messaggi quindi hanno una valenza ancora più profonda ovviamente anno dopo anno si cerca di migliorare, di andare avanti sempre con obiettivi più importanti quindi quest'anno ci auguriamo che ancora altre regioni aderiscano al progetto le parole chiave di questa edizione sono la forza per la categoria School Movie e poi invece abbiamo la partnership importante del Banco Alimentare Campania che vede come parola chiave la speranza quindi due argomenti molto ampi che permetteranno ai ragazzi di mettere in campo la loro creatività ci aspettiamo tante bellissime storie per poi giungere alla finalissima che si terrà a Pestum nel periodo di luglio dove tutti i ragazzi saranno coinvolti in una vera e propria notte degli Oscar per i ragazzi con tanti premi e soprattutto tante emozioni e viva School Movie! Grazie a tutti!